E' bello amare il calcio. Lega Serie A e Team presentano la Serie A Team. Dopo la sconfitta con la Lazio, la Juventus torna allo stadium decisa a ricominciare la striscia di vittorie casalinghe contro la Spal, che sembra l'avversario perfetto per una serata tranquilla. Di Bala in mezzo ancora a Bernardeschi e la palla in rete. Il vantaggio della Juventus con la firma di Federico Bernardeschi. Di Bala e la palla in rete! Il gol di Paolo Di Bala! Ritorna il gol Paolo Di Bala! 1-2 bellissimo della Juve, ma i ferraresi non vogliono fare la vittima sacrificale. Tutto immediatamente con il tiro e la palla in rete! Panoschi! Ha segnato Panoschi! Di mezzo allo svantaggio la Spal. La Spal sogna e la clamorosa rimonta, ma i Bianconeri non sono d'accordo. I sogni degli ospiti svaniscono in cinque minuti. Dieci gol nelle ultime due per la squadra di Allegri. Il Milan è avvisato. Ci sono dei campanelli allarme perché siamo ancora sull'altalena. Lo dimostra il fatto che sono stati molto bravi i ragazzi fino al 2-0. Poi siamo usciti dalla partita perché pensavamo che fosse chiusa. Se sabato facciamo una prestazione del genere, è normale che da Milano esci con le osse rotte.